Buon pomeriggio a tutte e tutti, studentesse, studenti, gentili ospiti in sala e a chiunque stia seguendo questo evento. Io sono il professor Elti Cattarruzza, sono il prorettore per il diritto allo studio e i servizi agli studenti di Ca' Foscari e sono davvero lieto di inaugurare per il secondo anno consecutivo, e questa non è mia colpa ma colpa di Roberta Novielli, quindi assumiamoci i meriti e le colpe, questo grande Short Film Festival che è giunto alla dodicesima edizione e porto a tutti anche i saluti della nostra rettrice, la professoressa Tiziana Lippiello, che è al momento ferma i box per Covid-19. Comunque ne sta uscendo, ecco, giusto per tranquillizzare tutti. Allora perché ho detto grande Short Film Festival? Anzitutto perché Short è parola che ha a che fare soltanto con la durata dell'opera e non certo con la densità del messaggio che un'opera così può veicolare, può portare. Inoltre non può ovviamente che essere grande un festival che è internazionale. Zeppo di ospiti illustri con una giuria di eccezione e anche e soprattutto partecipato in ogni sua minima parte da studenti e studentesse. Sono infatti circa 250 gli studenti che partecipano a questo grande festival, alcuni addirittura già laureati e che continuano a spendersi per pura passione nella settima arte, altri che appartengono addirittura ad Atenei diversi dal nostro eppure continuano a operare e a lavorare, a spendersi per questo festival. E tutti si spendono non perché spinti da qualche terreno riconoscimento, diciamo così, fosse anche un credito formativo, no, assolutamente per pura passione, per il desiderio di partecipare a tutta questa arte e a tutta questa bellezza. Grazie in primis a tutti gli studenti e le studentesse impegnate nel Cafoscari Short Film Festival che vedono cinema ma anche che fanno cinema. Adesso vi chiedo un attimo di pausa perché ho dimenticato nell'emozione di rinforcare gli occhiali e quindi sto facendo una fatica boia. Eccoci qua, tuttora è molto più chiaro. Il Cafoscari Short Film Festival è un puzzle, è un puzzle culturale mondiale composto da una selezione di 30 tessere che provengono da paesi diversi, tessere che toccano temi sempre fondamentali e inevitabilmente attuali come la guerra, le questioni sociali, l'ecologia, l'ambiente, le questioni di genere, la sessualità, la sensualità, le ingiustizie, l'inclusività, sempre con gli occhi di chi è giovane e proviene da culture diverse, vicine e lontane. Una selezione di 30 corti realizzati nell'ultimo anno da studenti e studentesse di università e scuole di cinema di tutto il mondo. Questa dodicesima edizione non è ricca solamente nella programmazione ma anche nella multiculturalità degli eventi e nella profonda esperienza artistica dei numerosi ospiti illustri e dei nostri giurati. La carriera trasversale di Colin Serot abbraccia cinema, teatro, musica, sino a lanciarsi e intendo letteralmente nell'attività circense del trapezio. Tra le sue opere di maggior successo va ricordata la delicata commedia, e lasciatemelo dire, stupendamente française, intitolata Tre uomini e una culla, in cui tre uomini dissennati, come molto spesso riusciamo a essere noi uomini, sono chiamati a una morbidissima responsabilità. La professionalità di Marina Mottin abbatte ogni frontiera, vantando competenza nella storia cinematografica di ogni continente, con una particolare attenzione per l'impegno nel reperimento di pellicole rare. Ha collaborato con alcune delle più importanti istituzioni culturali d'Europa, e ne cito due in particolare. Una è la mostra del cinema di Venezia, tanto per cambiare, e la seconda che nomino, con un certo orgoglio perché io sono di Pordenone, sono le giornate del cinema mutuo di Pordenone, che è il primo e, a detta di molti, il più grande festival del mondo dedicato al film mutuo. L'esempio di Francesco Montagnier è ancora più singolare, avendo consolidato la propria formazione all'estero per poi fare ritorno in Italia. Nel 2014 vince il primo premio per il miglior documentario sul cinema alla 71esima mostra del cinema di Venezia, con l'opera Animata Resistenza. E mi piace vedere per lui oggi il compimento di una serie di traiettorie ellittica, per così dire, dato che Francesco Montagnier torna da giurato nella sua Cafoscari, dove a suo tempo frequentò il corso di cinema digitale del nostro Ateneo. Ci tengo in conclusione a ribadire ancora una volta un punto che ritengo nodale. Il Cafoscari Short Film Festival è una manifestazione internazionale che, prima di tutto, è fatta da giovani e si rivolge soprattutto ai giovani, affinché possano essere meravigliati, sedotti e stimolati dall'arte, affinché possano a loro volta restituire arte. I nostri ragazzi fanno tutto ciò in maniera egregia e il nostro primo applauso va giustamente a loro. Allora, purtroppo il Presidente della Regione Veneto, Dottor Luca Zaia, per impegni istituzionali precedentemente assunti, non ha potuto essere con noi, ma ci ha gentilmente inviato una lettera che desidero leggervi. La lettera è indirizzata alla magnifica rettrice, professoressa Lippiello. Magnifica rettrice, non potendo presenziare all'inaugurazione della dodicesima edizione del Cafoscari Short Film Festival per concomitanti impegni istituzionali, desidero rivolgere il saluto della Regione del Veneto ai presenti. Ho già avuto modo di ricordare l'importanza di un festival di corti come mezzo di divulgazione che non appartiene solo al mondo giovanile, ma è un elemento di confronto e di discussione intergenerazionali su tematiche che sono all'ordine del giorno. Penso ai due anni di pandemia, ma anche all'attuale guerra in Ucraina e alla conseguente crisi economica. Questo festival è, dunque, l'occasione per riflettere, ma anche per apprezzare il lavoro di giovani registi e per scoprire e ammirare le sedi di questo evento diffuso che si svolge nel Centro Storico di Venezia. Il cinema racchiude in sé molte altre arti, diceva il grande regista giapponese Akira Kurosawa. Una citazione che si presta a definire il cinema, la settima arte, quella che riesce a cogliere i mutamenti della società e dei gusti, fermandoli nella pellicola come se fosse una sorta di scultura del tempo. Rappresenta inoltre un linguaggio universale in grado di rivoluzionare i modi di percepire la realtà, diventando una parte importante della nostra cultura. Nell'augurare il miglior successo dell'iniziativa e nel complimentarmi con i partecipanti, rinnovo i miei cordiali saluti a tutti. Dottor Luca Zaia. Ringraziamo il Presidente della Regione. Concludo questo mio breve intervento portando i miei più sentiti ringraziamenti alle principali istituzioni e ai partner storici che ci seguono in questi anni e che contribuiscono al successo dello short. Spero di non dimenticare nessuno, altrimenti sarete autorizzati a fustigarmi. Allora, Fondazione Ugo e Olga Levi, NH Hotel Rio Novo, la Fondazione di Venezia, la piattaforma di cortometraggi We Short, la famosissima Carpene Malvolti, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, il Museo Orientale di Venezia, l'Istituto Giapponese di Cultura, la Fondazione Querili Stampalia, la Fondazione Bevilacqua alla Masa, la Casa del Cinema di Venezia, il Festival Le Giornate della Luce di Spilimbergo e oltre a questi ovviamente la Regione Veneto e la Municipalità di Venezia. Tra un po' chiamerò proprio qui sul palco la collega ormai amica Paola Mar che farà il suo intervento di saluto. Non posso dimenticare ovviamente tutti gli uffici di Cafoscari e della Fondazione Cafoscari che aiutano in tutto e per tutto la buona riuscita di questo festival. Cito alcuni nomi, Consuelo Puricelli, Martina Sguazzin, Silvia Rigato, Marco Cosmo, Luca Petrini, Federica Ferrarin, Luisa Simeoni, Elisa Bizzosi e naturalmente i 250 mitici studenti di Cafoscari. Infine ringrazio i prestigiosi ospiti alla regista Yukiko Mishima, il direttore della fotografia Luca Bigazzi, il regista Shinya Tsukamoto, gli animatori Peter Lord e Barry Peirce e il regista Ashish Pandey. Ora chiamo gentilmente sul palco Paola Mara, Assessore del Comune di Venezia. Oggi giornata universitaria. Buonasera a tutte e a tutti, buonasera al prorettore, buonasera a Roberta Novielli che questo festival segue e cura con estrema passione, che si percepisce. Io faccio presto, mi sono fatta due appunti e seguo un po' di parole. Sicuramente creatività, perché voglio dire il cinema è un'arte, la settima arte e quindi a ciò presuppone la creatività, la visione, la capacità di interpretare il mondo che si vive, che sicuramente, come dicevo stamattina, non è un mondo facile in questo momento. Formazione, perché non solo i 250 studenti si formano sul campo, che è la roba migliore nella vita, ma anche tutto il percorso di formazione che corre con questo festival. Perché ho visto che ci sono delle masterclass estremamente interessanti. Diffusione che ci piace tanto, nel senso che come il comune di Venezia, il fatto che siano coinvolte più istituzioni cittadine, i musei, le fondazioni e quant'altro, è assolutamente interessante nel concetto di fare rete. Voi sapete che se uno si fa le sue robette a casa sua hanno una risonanza. Se uno comincia a girare e a dire le condivido con questo, questo e questo, e saluto anche Giovanni Dall'Olivo della Fondazione Venezia, l'effetto è sicuramente moltiplicatore. Internazionalizzazione, beh, Venezia dell'accoglienza fa, ha sempre fatto nella storia, io sono una caposcarina laureata in storia tanti anni fa. Internazionalizzazione, sì, perché ci sono in competizione 30 corti da paesi diversi che ci permette di esercitare quella che è uno sguardo multiculturale. Io ringrazio sempre i miei genitori perché mi hanno fatto viaggiare e conoscere culture diverse. Magari si può viaggiare meno in questi tempi, ma questa è una grande possibilità di confrontarsi con culture diverse. Comunicazione, perché attraverso il cinema si comunica, si comunica a parte di sé, parte dei propri pensieri, parte del proprio essere. E quindi non mi resta che augurarvi, ciac, si gira, azione. Ringrazio l'assessore Paola Mar e invito sul palco adesso Giovanni Dall'Olivo, che è il direttore della Fondazione di Venezia. Buonasera, effettivamente dopo il prolettore Paola Mar, questo è un po' lo schema usuale, tocca parlare a me che ho veramente molto poco da aggiungere rispetto a quanto avete rappresentato e ogni volta, a costo di ripetermi, voglio ringraziare tantissimo come partner, come rappresentante di uno dei partner storici di questo festival, Roberta Novielli, perché questo lavoro riteniamo sia nell'ambito della partnership che la Fondazione di Venezia ha strutturale con le due università, con Ca' Foscari in particolare, uno dei fiori all'occhiello che appunto, come è già stato riferito, come è già stato rappresentato, ha nell'internazionalità, nel confronto di visioni anche diverse del mondo, la sua fondamentale natura, la sua essenza, il punto come dire qualificante di un'azione della terza missione dell'università, terza missione che noi con Ca' Foscari e con Uav, quindi con l'altra parte del cielo di questa città, che fortunatamente accoglie due università, non è cosa da tutti, purtroppo non ha un Politecnico, ma questo aprirebbe un tema, come dire, un po' al di fuori rispetto a quello che stiamo trattando qui, però devo trattarla in termini istituzionali, rimane comunque una ricchezza straordinaria, una ricchezza fatta di studenti, fatta di persone che vengono a Venezia, che è il bacino di raccolta naturale di tutta questa cultura che si riesce a costruire, che si riesce a trasmettere nei confronti di tutto il mondo, che non è solo il mondo universitario, ma anche il mondo esterno. Ecco, la fondazione di Venezia credo che abbia questo ruolo, come dire, di stimolo nei confronti dell'università, delle istituzioni e di tutti questi partenariati stupendi, quindi questa grande capacità che Venezia dimostra a livello istituzionale di fare rete, di creare sinergie, che sembrano parole vuote, invece in realtà rappresentano la base del successo della cosiddetta società civile, se ne esiste veramente una. Un ultimo aspetto, devo dire, ogni volta che vengo a vedere lo shopping festival, vedo la presentazione di Ca' Foscari e i corti, io sono molto, come dire, mi sento ancora molto orgoglioso di essere, anche io stato un ca' Foscarino, anche se sono un bieco economista, ma cosa vuol dire, insomma, alla fine ognuno ha il destino che si merita. Può essere che tu sia l'unico che ha capito, in verità, cioè ci sono vari punti di vista. Ciò però va detto che, insomma, rispetto al periodo in cui facevo l'università io, e anche qui a costo di ripetermi, l'università ha cambiato mille volte pelle e quello che oggi l'università riesce a trasmettere come istituzione, come motore culturale, come produttore di eventi culturali nella città è davvero straordinario. Ca' Foscari è il più grande produttore di eventi culturali, non dico solo per sommatoria, ma insomma c'è anche un aspetto qualitativo importante, ma quantomeno numericamente dell'intera città di Venezia. E questo è effettivamente un risultato straordinario. Mi fa molto piacere, e mi inorgoglisce per il lavoro che faccio, poter contribuire insieme a Roberta Novielli, ma anche a tante altre persone, Flavio Gregori che vedo in prima fila, con l'altro grande festival internazionale, che è quello di letteratura, che incroci di civiltà, a contribuire a dare uno slancio e una spinta a questo tipo di iniziative. Quindi buona visione a tutti e grazie per l'ascolto. Grazie. Bene, adesso la scaletta prevederebbe una mia azione, ma vorrei tendere un tranello a Roberta Novielli chiedendole di salire sul palco con me a fare l'ultima cosa, perché è giusto che ci sia anche e soprattutto tu. Non era previsto, eh? Ho infranto la scaletta. Pagherò caro, pagherò tutto, ma adesso sei qua e te lo meriti. No, nel senso che era bellissimo sentir parlare lui finalmente, io poi mi dimentico sempre che devo ringraziare, quindi ho chiesto questa grande cortesia, sei stato splendido, ma anche per un altro motivo, non dovrei esserci io, ma i 250 studenti, diciamo la verità, perché sì, una cosa è coordinare, ma poi di fatto chi lavora con questa passione, come giustamente diceva Eti, e credete, ci sono alcuni momenti, perché certi ruoli lo richiedono, in cui vanno avanti a lavorare di domenica, domenica sera, di notte, fino all'ultimo momento, spostandosi grazie mille ragazzi, veramente, siamo a 12 anni. Allora, leggiamo, grazie, leggiamo insieme l'ultima riga. No, 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 vieni, vieni, Roberta, ok, allora, dichiariamo ufficialmente aperta la dodicesima edizione del Caffoscari Short Film Festival. Grazie. 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 Grazie.